Prosegue l'avventura interregionale per la Molise Tour Bike. I bikers nero-giallo-fluo per il secondo anno consecutivo sono protagonisti del campionato dei sentieri del sole e dei sapori 8 marathon che vedono sui tracciati i migliori atleti delle ruote grasse. I bikers molisani, dopo aver studiato lo scorso anno i tracciati, quest'anno hanno maggiore confidenza a collegare, a testimoniarlo, anche i buoni risultati che stanno arrivando. La Molise Tour Bike domenica è stata impegnata in Abruzzo, precisamente a Scammo, con la Marathon degli Stazzi. Le condizioni meteo hanno reso il tracciato ancora più impegnativo, ma questo non ha impedito agli atleti molisani di portare a casa ottimi risultati. Solo conferme per la Pasha Paolo Bettini, che ha centrato il terzo posto tra i M3 nel percorso Marathon. Ottimo risultato anche per il presidente atleta Giuseppe Gennarelli, che nel tracciato Gran Fondo ha messo in bacheca il sesto posto assoluto e il secondo di categoria tra i M1. A Scammo, sempre nel percorso Gran Fondo, terzo posto anche per Luca De Lucia e Lino Cardillo, nelle categorie LMT e M8. Adesso il campionato dei sentieri del sole e dei sapori si fermerà. Si tornerà a gareggiare a luglio con un doppio appuntamento. Il 7, la Martani Superbike Bontan Bike di Massa Martana, Perugia. Il 28, la SSS a Montefiascone, provincia di Viterbo. Ad agosto niente gare, le ultime due tappe sono in programma a settembre, la Colle Albane di Vivaro Rocca di Papa a Roma e la Marathon Sentieri dei Lupi di Collarmele, provincia dell'Aquila. I bikers nero-giallo-fluo proseguono gli allenamenti, ma anche l'uscita ufficiale. In calendario, tra due settimane, sulla linea di partenza della Sella Ronda Hero a Selva Val Gardena e poi nel campionato italiano a fine giugno, che quest'anno si correrà sempre in Abruzzo ad Aielli.